Per i sindacati di polizia qualcosa non torna, nella vicenda ormai famosa dell'attacco sferrato dal governatore Luciano D'Alfonso alla squadra mobile di Pescara e all'investigatore Giancarlo Pavone. Ieri le sigle che difendono i lavoratori della polizia sono andate a colloquio dal procuratore capo di Pescara Federico Desiervo, che ha ribadito loro l'estrema fiducia che la magistratura pescarese ripone nell'imparzialità delle indagini svolte dalla mobile del capoluogo. Apprezzamenti che lo stesso Desiervo avrebbe già espresso in una comunicazione inviata al questore di Pescara Paolo Passamonti lo scorso 7 aprile, dopo aver attentamente vagliato i fatti e sulla scorta dei pareri espressi da tutti i sostituti della procura. A questo punto, scrivono i sindacati in una nota, non si comprende l'accelerazione con la quale, già in data 21 marzo, all'esito dell'incontro con lo stesso procuratore del 17 di marzo, il questore abbia segnalato al Ministero dell'Interno la necessità di trasferire Giancorlo Pavone ad attività non investigative e poi, in data 22 marzo, avviato il relativo procedimento disciplinare, ragioni che risiederebbero nella grave incompatibilità tra un post pubblicato e il settore specifico investigativo della lotta ai reati contro la pubblica amministrazione, tanto che, secondo quanto appuntato dal questore, lo stesso procuratore ha auspicato l'assegnazione del Pavone ad un incarico che non comporti lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria. Nel corso dell'incontro, riferiscono sempre i sindacati, Desiervo avrebbe spiegato l'accaduto come una incomprensione di chi ha espresso male un fatto e ha recepito male un concetto. Ma per i sindacati qualcosa non quadra e quindi chiedono un immediato chiarimento interno alla Polizia di Stato per capire la natura degli errori commessi nella gestione dell'intera vicenda e chi li abbia commessi. Grazie. Grazie.